ciao a tutti oggi prepareremo le linguine al pesto di nocciole ed erbette il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono spinaci freschi rucola pecorino parmigiano nocciole pelate tostate basilico olio sale pasta e acqua andiamo via alla ricetta siamo alla ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il pecorino e li facciamo dritare per 10 secondi a velocità 10 aggiungiamo le nocciole chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo i bimbi per altri 10 secondi sempre a velocità 10 adesso aggiungiamo gli spinaci la rucola il basilico una parte del sale e l'olio chiudiamo con il coperchio senza il misurino posizioniamo la spatola che ci servirà per spadolare e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 7 spadolando il pesto è pronto mettiamolo da parte in una ciotola senza lavare il boccale versiamo l'acqua e il sale chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 7 minuti 100 gradi velocità 1 adesso dal foro del coperchio aggiungiamo la pasta e la faremo cuocere per il tempo indicato sulla confezione nel nostro caso 12 minuti 100 gradi con l'antiorario a velocità soft la pasta è cotta adesso la scolleremo vi ricordo di conservare un po' di acqua di cottura che ci servirà per mantecarla con il pesto andiamo a condirla e impiattiamo linguine al pesto di nocciole ed erbette grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti